Buongiorno a tutti, sono Giampietto Stefanini, associativo dell'Accademia Italiana di Odonto e Teapotesica. Volevo ricordarvi l'appuntamento di venerdì 21 di maggio per quanto riguarda il progetto IOP Education. Il progetto nasce circa tre anni fa da un'idea di IOP con l'intento di coinvolgere le scuole nazionali di odonto tecnica presenti sul territorio in un progetto condiviso. L'Accademia è da sempre portatrice, oltre che di un'eccellenza scientifica, anche di una cultura dell'etica e della responsabilità in ambito professionale. I protagonisti della giornata saranno gli studenti stessi con i loro professori, con cui nel corso di quest'anno così difficile hanno sviluppato sei progetti diversi, uno per ogni scuola in ambito protesico. Sei infatti sono le scuole che partecipano al progetto, la scuola di Udine, la scuola di Trieste, la scuola di Pordenone, la scuola di Brescia, la scuola di Reggio Emilia e la scuola di Napoli. Ad affiancare questo progetto IOP Education, l'Accademia riproporrà poi per questo autunno e i primi mesi del 2022 un altro progetto denominato IOP Magister, denominato anche alla formazione continua dei docenti. L'appuntamento quindi è per venerdì 21 con il progetto IOP Education, sui nostri canali social, la pagina Facebook di IOP e YouTube. Un caro abbraccio a tutti e vi aspettiamo numerosi.